Con un parto travagliato alla fine il Senato ha dato ieri il suo via libera al decreto del fare che ha arricchito di 70 modifiche e passa ora in terza lettura alla Camera per l'approvazione definitiva entro la settimana e dove il Governo è inciampato due volte andando sotto sul tema giustizia. Ieri sera Montecitorio ha dato il sì definitivo al DL lavoro IVA. Il testo è stato approvato con 265 sì e 118 no. Contro si sono espressi 5 Stelle e SEL. Lega e Fratelli d'Italia non hanno partecipato al voto. Oggi il Consiglio dei Ministri varierà il decreto legge con le misure per la sicurezza. Particolare attenzione rivolta alle violenze domestiche, ai controlli sugli appalti per contrastare la criminità organizzata con particolare riferimento all'Expo di Milano e a nuove norme di contrasto ai notabbi in Val di Susa. Ma a far rumore sono i provvedimenti che slitteranno a settembre a causa della pausa estiva. In particolare il DDL sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. A Montecitorio si chiude il 10 agosto e si riprende il 6 settembre dopo 26 giorni. La conferenza dei capi gruppo ha stabilito che il provvedimento su cui si è impegnato direttamente il Governo andrà in aula a partire dal 10 settembre, subito dopo il via libera al DDL costituzionale da licenziare entro il 9. Già nelle scorse settimane il calendario dei lavori era stato profondamente modificato per l'ostruzionismo grillino al decreto del fare, interrotto soltanto dopo il rinvio del disegno di riforma istituzionale. Durante la riunione dei capi gruppo il Presidente dei Deputati 5 Stelle Riccardo Nuti aveva avanzato la proposta di una seduta a fiume pre-pausa ma la richiesta non è stata accolta dagli altri capi gruppo. I parlamentari italiani sono già in vacanza, ha commentato Nuti, è evidente che non v'è alcuna volontà di affrontare uno dei provvedimenti maggiormente richiesti dai cittadini. Chiusura più breve a Palazzo Madama dove i lavori riprendono il 2 settembre per le commissioni e il 4 per l'Aula.